Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per esservi collegati. Oggi la Riccitelli presenta un concerto in una formula un po' inusuale, ma che in questo momento è l'unica alternativa che abbiamo per non privare gli appassionati della musica e della bella musica, qual è questa che ci farà ascoltare il Quartetto Adorno, che ringrazio innanzitutto il quale pochi giorni fa ricorrevano i 250 anni dalla nascita e che ovviamente siamo veramente lieti di poter presentare al nostro pubblico, anche con la diretta streaming, che non sostituisce la musica dal vivo, ma che comunque è un modo per stare insieme. Colgo il canale sereno a tutti, il più sereno possibile compatibilmente con la situazione, nella speranza che potremo poi tornare a sentire i concerti dal vivo. Vi lascio all'ascolto del Quartetto Adorno e di nuovo auguro buon pomeriggio a tutti. grazie a tutti 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 grazie a tutti